Musica Musica Era talmente carina questa cosa come la fai tu che... Non sai che se posso... Metti da capo proprio La cosa che lo presenti... Certo Però è cortissimo effettivamente E' molto rallentata la mia E nel suicido silenzio generale Non fa niente Non si pensa Certo Certo che non sono alcuna Chitarra e voce Quindi questa cosa adesso la... Questa è perfetta Si maestro Si può fare? Scome no? Bravo da dormire da tuttura C'è mai solo tu Maestro Le cose belle Maestro Ok ma è così Aiu 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 Anche su fa Anche su fa Beh Aiu 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 La cosa bella E' che lei La conosce Come fosse una canzone Perfetto 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 Ora allentate Preghiamo Maestro Maestro Ci accingiamo? Ah si Ora vuole... La tua figura Mi assicuro La ringrazio Si grazie Passano e spazzano Si balcuno Ahahahahah 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 C'è te l'hai messo? Parlano la vite D'oddolore Come fosse una canzone Che fa per te e allora si erano velate un po' le palle per me è buona la prima dammi sempre l'altra riposto di cuore all'interno un uomo un cuore rapace cerca quello che gli piace La piacene il creatore Ma risci una esattura Per quest'anime non c'è Ora come possa una canzone Che fa per il rap Ok, voi ce la registriamo Per Batman La piacene il creatore